So che stai pensando che sia una punizione, ma non è così, ok? Tua madre e io vogliamo il tuo bene. Tu non hai idea di cosa vuole lei. Io non so perché lo fai. Non è me che hanno espulso, Steven. Sei tu che vuoi mandarmi via, non lei. Questo non è vero, smetti. Sì, invece sei tu che mi stai cazzando via. Tua madre e io abbiamo parlato a lungo di... Parlato di cosa? Ci serve una pausa, Steven, va bene? Io non voglio una pausa! Serve a tutti e a due in questo punto. Io ti odio! Vedi di calmarti adesso, non toccarmi! Con me!